L'Oris Negri di Santa Croce ha vinto il primo premio del concorso Presepi 2014, al secondo posto ex equo i presepi di Odilla Cavallini e del gruppo 6 di Sermide, il terzo premio al presepe Mauro Bocchi di Moglia. Il posto dei Magi, il concorso organizzato dalla contrada dei Cappuccini con il patrocinio del Comune di Sermide è giunto alla quarta edizione. Un saluto a tutti a nome dell'Associazione Volontari Contrada dei Cappuccini, siamo arrivati alla quarta rassegna del concorso dei presepi, siamo contenti perché ogni anno c'è sempre una frequenza maggiore e speriamo ovviamente che nei prossimi anni questa tradizione continui e che ci possano essere sempre più persone prese dalla voglia di dedicare un momento all'altro perché il fare presepi all'aperto è comunque far dare qualcosa agli altri. 17 le famiglie che si sono iscritte per far valutare la loro realizzazione sistemata all'aperto che anche con il sapiente uso delle luci ha dato suggestivo risalto ai presepi. Nella sala consigliare sono state esposte le foto di tutti i presepi partecipanti. La giuria composta da Franca Bergomi in rappresentanza della Contrada Cappuccini, dell'assessore Mirko Bortesi per l'amministrazione comunale e dallo scultore Denis Raccanelli che ha spiegato i criteri di valutazione della giuria. I criteri di SCELT per un concorso sul presepio all'aperto valevano gli aspetti prevalentemente scenografici di adattamento all'ambiente, le dimensioni, il fatto a mano, cioè l'idea di realizzare il presepio non con soggetti preimpostati ma di prepararli per l'occasione. Questi sono stati un po' i criteri che la Commissione ha utilizzato per valutare il concorso 2014. A tutti è stato consegnato un omaggio e l'attestato di partecipazione, quindi, tra la comprensibile attesa, la premiazione di quelli ritenuti più significativi. La giornata della Befana è dedicata a Porto per dare un presente alle persone che hanno fatto questo sforzo nel mettere a disposizione il loro giardino, il loro spazio della casa per portare l'attività agli occhi di tutti.